Musica Dramma in discoteca per una sigaretta, una rissa per futili motivi, ha rischiato di finire in tragedia. E' successo in un locale di Coroio a Bagnoli, ferite due giovani di 21 e 26 anni, ora ricoverati in ospedale. La polizia sta valutando le immagini della videosurveglianza. Aias ancora sequestri, nuovi sviluppi nell'inchiesta sulle Ollus che si occupano dell'assistenza ai disabili in Irpinia. La finanza ha fatto scattare i sigilli per le sedi di Calitri e di Nusco, bloccati i conti della moglie di De Mita. Crisi di governo, Mastella, Torno. Gli ultimi sviluppi della situazione politica nazionale hanno spinto il sindaco di Benevento a uscire allo scoperto. Sarò in campo per difendere l'Europa. L'allarme di De Magistris, sindaci preoccupati in Campania. Muore Centauro, 17 anni, assalto all'ambulanza. Caos ai quartieri spagnoli dopo un incidente con la moto. Un gruppo di amici della vittima ha aggredito una squadra del 118 per impossessarsi dell'ambulanza nel parcheggio del vecchio Pellegrini. Ma il ragazzo era già morto. Stesa sotto casa del boss Rinaldi, area est di Napoli, senza pace, nuova sparatoria a San Giovanni a Teduccio. Esplosi nuove colpi, l'intimidazione diretta al capo clan che abita nel rione Villa. Quattordicesimo ride dall'inizio dell'anno. Agroperizia per il pistolero. Sarà sottoposto a indagine psichiatrica. Luca Criscuolo, il 27enne, rinchiuso nel carcere di Salerno. E' accusato di essere il pistolero che ha seminato il Far West nell'agro nocerino Sarnese. Buonasera, rieccoci con l'informazione regionale di 696 TV. Quelli che abbiamo appena seguito erano i nostri titoli. E come avete sentito, in apertura siamo a Bagnoli di Napoli. Torniamo a parlare della movida violenta. Rissa davanti ad una discoteca di Coroio. Fu tutti gli motivi, forse una sigaretta negata. E la rissa stava davvero sfiorando in una tragedia. Sentiamo Paola Iandolo. Ancora violenza nei luoghi della movida notturna a Napoli. Due giovani di 21 e 26 anni sono stati accoltellati davanti a una discoteca di Coroio nel quartiere Bagnoli. L'aggressione è nata per una sigaretta. La versione, ancora al vaio degli inquirenti, è quella riportata dalle due vittime. I due giovani hanno raccontato di essersi azzuffati all'interno del locale, poi sono stati cacciati dagli addetti alla sicurezza. All'esterno, però, la rissa è continuata, con i due giovani accerchiati, malmenati e infine accoltellati da un gruppetto di 15 giovani, loro coetanei. Entrambe le vittime, poi, alle 6 del mattino, si sono recati autonomamente all'ospedale Fatebene Fratelli di Posillipo, dove gli agenti del locale commissariato hanno acquisito la loro versione dei fatti. Il 21enne ha riportato un taglio al braccio sinistro, più grave il 26enne, medicato per tagli all'addome, al braccio e all'avambraccio. Per entrambi, le ferite sono state giudicate guaribili in sette giorni. Le forze dell'ordine del commissariato dei Bagnoli stanno ora acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare riscontri alla versione dei due giovani. E adesso parliamo del caso Aias, ci spostiamo in Irpinia. Chiudono anche i centri di Nusco e Calitri. Stamattina i sigilli imposti dalle fiamme gialle su ordine della Procura Avellinese. Intanto i sindacati sono in allerta. Si teme che il blocco dei conti correnti di alcuni degli indagati possano fermare il saldo delle quattro mensilità arretrate dei lavoratori. La Guardia di Finanza di Avellino, su disposizione della Procura, ha sequestrato le strutture della Onlus Aias operanti nel settore della riabilitazione nei comuni di Nusco e Calitri. I sigilli sono scattati e fanno seguito alla chiusura del centro Aias di Avellino, avvenuta lo scorso mese di febbraio per iniziativa dell'ASL. La motivazione dello stop imposto in Alta Irpinia sarebbe riconducibile alle attività legate all'ex presidente dimissionario dell'Aias, Gerardo Bilotta, e alla presidente dell'associazione Noi con loro, Anna Maria Scarinzi, ai quali sarebbero stati posti sotto sequestro i rispettivi conti correnti. Stiamo attendendo di capire in maniera più dettagliata le motivazioni di queste ordinanze. Se si tratta di un sequestro cautelativo, di pochi giorni, se si tratta di qualcosa di più consistente, verificheremo nel momento in cui avremo certezza delle ordinanze. Se certo arriva queste ordinanze nelle ore in cui i lavoratori dovevano ricevere quattro mensilità, immagino, anche su questo non abbiamo certezza, che il blocco dei conti correnti possa da questo punto di vista bloccare questa iniziativa. Parliamo di un vero e proprio terremoto occupazionale e anche assistenziale. Diamo i numeri di questo dramma Aias, per quante persone vengono assistite e per quante altre rischiano di vedere perso il posto di lavoro. Siamo intorno alle 300, poco più di 300 pazienti che in questo momento soffriscono delle prestazioni Aias e siamo intorno ai 100 dipendenti tra lavoratori a tempi determinati e liberi professionisti. Cambiamo argomento, apriamo la pagina della politica. La crisi di governo preoccupa e non poco il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che commenta così a margine di un evento. Sentiamo, Rossella Strianese. Pronti a fare la nostra parte per arginare le conseguenze di uno scontro istituzionale senza precedenti, Luigi De Magistris si dice fortemente preoccupato per la crisi di governo in atto. È il momento della responsabilità, dice l'ex PM, che come molti adesso teme per il Paese e soprattutto per la parte più debole, il Sud, rimasto senza interlocutori, dinanzi ad una campagna elettorale destinata a radicalizzarsi nei toni e nei modi, come mai prima d'ora. Io avrei fatto partire questo governo, ma non mi pare dalle dichiarazioni che il Presidente della Repubblica mi ha messo peti. Con Salvini si sarebbe aperta la stagione di più grande repressione del dissenso e delle libertà civili del nostro Paese, quindi evidentemente il quadro è molto più grave e molto più fosco di quello che si può immaginare. Ci sarebbero anche tante cose da dire, ma ne dico una sola, che mentre questi dimostrano tutta la loro inaffidabilità e incapacità, c'è un Paese che soffre, c'è un Paese che lavora, c'è un Paese che vorrebbe sognare e non vivere nell'odio, nella paura e nel rancore, ci sono comunità che lottano come quella napoletana, che noi avremmo bisogno e abbiamo bisogno ogni giorno di interloquire con un governo o con un Parlamento e ci dicono ma che parliamo a fare? Il Parlamento è fermo. Non c'è un governo con cui puoi andare a discurre nemmeno nell'ordinaria amministrazione, ma come facciamo ad andare avanti noi? Di fronte a scenari così inquietanti si debba mettere in campo un'alternativa democratica davvero forte che si argine di fronte ai peggiori populismi, alle peggiori incapacità, alle peggiori bramosie di potere. Qua non si scherza perché per come è combinata l'Italia, per come sono combinati i comuni, e per come ci sono le disuguaglianze del nostro paese, se sbagli qualche mossa puoi cadere veramente nel baratro e non ci si riprende più. E parlando sempre di crisi istituzionale, a Benevento Fratelli d'Italia ha manifestato sotto il palazzo di governo dicendo il Quirinale ci ha rubato la democrazia, ma intanto il sindaco Mastella difende Mattarella esce allo scoperto e dice che non possiamo lasciare spazio ai nazionalismi scendo in campo per il Sud e per tutta l'Europa. La politica sannita scende in piazza dopo la decisione del Presidente della Repubblica di affidare l'incarico per formare il governo ad un tecnico, al di fuori delle parti politiche scelte dagli italiani. Federico Paolucci, portavoce provinciale di Fratelli d'Italia, attacca la scelta del Quirinale e parla di furto di democrazia. Lo fa durante un sit-in sotto alla prefettura sannita. È indubbio che le dinamiche della democrazia che tanto il Quirinale ha tenuto ad osservare fino alla mezz'ora peggiore degli ultimi anni della Repubblica, quella di ieri sera, sono state stravolte nel momento in cui un governo che aveva una maggioranza parlamentare viene sostanzialmente respinto e in mezz'ora, senza che si faccia più alcuna consultazione, senza che si parli più con le forze politiche, si tira fuori il nome di un ennesimo tecnico. Clemente Mastella difende invece Mattarella e annuncia la discesa in campo per l'Europa e per il Sud. Mattarella non è che a collegiera abbia preso questa decisione, c'è un capo dello Stato che non deve sendere nessuno perché non è che fa politica quando finisci di fare il capo dello Stato, non è che deve agevolare qualche amico o amichetto, assolutamente no. Se ha fatto questa ragione veduta, o rischia l'Italia essere più povera, immaginarsi come diventerà più povera il Mezzogiorno Italia, quindi Benevento, il Sud, mi batterò e farò qualche inserita politica nei prossimi giorni, nei prossimi settimane. Non mi piace queste insorgenze con il Mezzogiorno, appendice del Nord, appendice del Nord non mi piace assolutamente, quindi mi batterò per questo e torno in campo per questo. E adesso parliamo delle amministrative, si dovrà scegliere il sindaco a Davillino il prossimo 10 giugno, le urne e la campagna elettorale d'Avelo Arveleno. Il sindaco Paolo Foti lancia astrali ai suoi successori, intanto stamattina il candidato Grillino presenta l'assessore al bilancio, mentre l'altro candidato, Sabino Morano, presenta la sua appunto assessora, quella che se viene eletto guiderà il comparto Cultura. Paola Iandolo. Accuse polemiche e una campagna elettorale al veleno. Continuano ad esserci fuoco incrociati e scambio di battuta al vetriolo tra i candidati e gli esponenti dell'amministrazione Foti. Questa mattina, durante la conferenza stampa della presentazione dei progetti di riqualificazione urbana, sia il sindaco Paolo Foti che l'assessore all'urbanistica Ugo Tomasone hanno lanciato le ultime stoccate ai futuri amministratori e ai candidati sindaco della città. Dure le parole di Foti, che ha rispedito al mittente il termine continuità. Io non sono in continuità con nessuno, ha ribadito, il mio percorso termina qui e poi ha aggiunto. Io non sono mai stato un totorriine e nella mia amministrazione non ci sono mai stati né Bagarella né Buscetta. Ultime schermaglie che il sindaco ha voluto lanciare prima di chiudere il suo percorso amministrativo. Anche l'assessore Tomasone, a margine della conferenza, ha lanciato una sfida ai candidati. Nessuno ha mai parlato del PUC durante questa campagna elettorale, un argomento fondamentale per la nostra città. Sfido chiunque a portare al tavolo questo discorso parlando delle proprie intenzioni. Il Movimento 5 Stelle ha presentato questa mattina il futuro assessore al bilancio. Si tratta di Gianluca Forgione, che ha subito promesso in caso di vittoria di Ciampi faremo di tutto per evitare il dissesto finanziario del Comune. Il candidato sindaco Morano chiama l'attore, regista ed editore Edoardo Silo Slabini e entusiasta dell'idea di trasformare Avellino in un laboratorio culturale. Un progetto ambizioso che punta a riqualificare il patrimonio del centro storico attraverso quella che ha definito un'urbanistica della cultura. Per queste ragioni l'artista Labini ha accettato l'invito del candidato di centrodestra di guidare il Teatro Gesualdo in caso di una sua vittoria. E parlando di cultura, domani il candidato nell'Opizza presenta i temi in una conferenza stampa. Cronaca, un'altra stesa nel cuore di Napoli. Spari ieri sera a San Lorenzo, a pochi passi da Porta Capuana. Ma il bilancio è pesantissimo, solo poche ore prima ancora spari e paura a San Giovanni a Teduccio, precisamente a Rione Villa, che sembra essersi trasformato in un poligono da tiro a cielo aperto. Un'altra stesa dunque in via Sorrento conferma le dinamiche dello scontro tra i due cartelli Rinaldi e Mazzarella. Sono stati refertati i nove boss di calibro 9,21 che appunto sono stati raccolti dalle forze dell'ordine che ora indagano. Chi ha sparato lo ha fatto contro casa del boss Rinaldi. Vuole incutere timore, succede ancora appunto sotto casa del numero uno del clan avverso a quello dei Mazzarella. Ed è stata una notte di follia, quella appena trascorsa ai quartieri spagnoli dove c'è stato un violento incidente tramoto. Un diciottenne ha perso la vita, i suoi amici hanno raggiunto il vecchio Pellegrini e hanno tentato di sequestrare un'ambulanza per accelerare i soccorsi. Ed è amaro il commento del dottore Manuel Ruggero che dice si tratta della 37esima aggressione al personale del 118 dall'inizio dell'anno. Una notte di follia e puro terrore nei quartieri spagnoli dopo un incidente che ha avuto conseguenze a dir poco assurde. Il sinistro successo in Vico Porta Piccola a Monte Calvario ha visto coinvolte più persone, tra questi anche un giovane di 18 anni che per le ferite riportate, una volta ricoverato al vecchio Pellegrini, è morto. A causa dello schianto un altro ragazzo è stato ricoverato al CTO per una seria frattura al femore. A seguito di questa tragedia una folla inferocita di persone ha letteralmente circondato l'ospedale arrecando infiniti disagi al 118. Ma questo in nulla rispetto a quanto accaduto negli istanti successivi all'incidente quando alcuni ragazzi in scooter hanno occupato il parcheggio del Pellegrini chiedendo con forza di utilizzare un'ambulanza del 118. Il mezzo era impegnato in altro soccorso. Gli esagitati si sono impossessati dell'ambulanza per poi dirottarla verso l'incidente. Siamo alla 37esima aggressione da inizio anno e i numeri incominciano ad assumere una caratteristica molto preoccupante perché si parla comunque di un'aggressione ogni 4 giorni e noi come associazione, che raccoglie anche la voce di tutto il personale sanitario del 118 e dei pronto soccorsi partenopei, siamo molto amareggiati per quanto è avvenuto stanotte. Cito una frase del dottor Paolo Dipinto, un medico di base che fu aggredito il 26 aprile 2018 Il dolore fisico passa, mi è rimasta l'angoscia di quei momenti cerco di dimenticare ma di notte mi torna quell'angoscia quindi questo dipinge perfettamente lo stato d'animo di tutti gli operatori aggrediti in questo periodo. E' accusato di essere il pistolero che ha seminato terrore il far west nell'agro nocerino sarnese, Luigi Criscuolo, Luca Criscuolo, scusate il 27enne richiuso nel carcere di Salerno sarà sottoposto ad una perizia psichiatrica. Giovan Battista Lanzilli Sarà una perizia psichiatrica stabilire se Luca Criscuolo era pienamente consapevole delle proprie azioni quando ha seminato il terrore sparando all'impazzata nei comuni dell'agro nocerino sarnese. Il giovane, 27 anni, attualmente rinchiuso in una cella del carcere di Forni a Salerno. Arrestato dalla polizia nella sua abitazione al quartiere Piedimonte ha già ammesso di essere il pistolero solitario responsabile di otto sparatorie tra i comuni di Cava dei Tirreni, Sarno, Pagani e Nocera Inferiore. Tra i suoi bersagli non solo attività commerciali e automobili ma anche persone. In ospedale infatti sono finite una ragazza di Cava dei Tirreni ed un anziano di Nocera. La 21enne Maria Pia Principe si trova ancora in un letto del Santa Maria dell'Olmo le sue condizioni restano gravi. All'Umberto I invece c'è l'anziano colpito ad entrambe le gambe nell'ultimo ride criminale di Criscuolo. La perizia psichiatrica servirà a chiarire il contesto nel quale il 27enne ha maturato la decisione di sparare. L'ho fatto perché mi erano antipatici la versione consegnata agli agenti. Esponente di una famiglia per bene nessuno si aspettava che potesse essere proprio Criscuolo il pistolero che ha tenuto sotto scacco questa parte della provincia salernitana per diversi giorni. I sindaci del comprensorio intanto attendono che il prefetto di Salerno, Salvatore Malfi, convochi nelle prossime ore una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Ancora nulla di fatto per la realizzazione del depuratore delle acque reflue a Benevento. Il capoluogo ne è sprovvisto e la soluzione sembra essere ancora davvero lontana. Ancora nulla di fatto per la realizzazione del depuratore per le acque reflue a Benevento. Il capoluogo sanita è tra le poche città italiane ad esserne ancora sprovvista. Una situazione non semplice da gestire considerata anche l'operazione di sequestro preventivo disposta dalla magistratura per alcuni scarichi solo qualche mese fa. Ed un no arriva anche dopo l'incontro tra il Comune di Benevento e l'Associazione Costruttori in sala giunta a Palazzo Mosti. La soluzione non c'è, non è imminente. Noi come rete delle professioni, composta sia dall'associazione di categoria ma anche dagli ordini professionali, abbiamo chiesto questo incontro per capire lo stato dell'arte. È chiaro che il Comune si è reso disponibile ma comunque deve ottemperare quello che è un provvedimento emanato dalla Procura. La soluzione al momento purtroppo non c'è a meno che non si faccia il depuratore ma il depuratore si si impiega almeno dai tre o quattro anni. Quindi abbiamo chiesto all'amministrazione di pubblicare almeno la planimetria dei depuratori asserviti del perimetro di alcune zone che sono quattro in modo da facilitare quello che è l'operato sia dei progettisti ma soprattutto dei cittadini che vogliono chiedere concessioni in merito a qualche attività commerciale. Una situazione che produce pesanti e negative ricadute anche sull'economia locale. Torniamo ad Avellino. Presentati questa mattina in Comune i progetti di riqualificazione urbana saranno 93 milioni quelli da spendere per rendere Avellino una città più sostenibile. Progetti per 93 milioni di euro per la riqualificazione del capoluogo Irpino e l'eredità che lascia l'assessore Ugo Tomasone alla nuova amministrazione per una città più vivibile. Si parte dal progetto del parco Fenestrelle con piste ciclabili e un accesso che collega Tripalda d'Avellino ma si parla anche di sicurezza stradale di Via L'Italia con una rotatoria a San Ciro e una rigenerazione dell'area della stazione ferroviaria. Lasciamo una programmazione di circa 93 milioni di euro che significa progetti approvati con atti amministrativi fondi di finanziamento già individuate. Abbiamo presentato la programmazione di questa amministrazione che si è sviluppata per questi quattro anni. Ho voluto parlare prima dei contenuti e poi dei numeri. I contenuti sono quelli di una riqualificazione finalmente definitiva delle periferie un recupero e una riqualificazione del centro della città una riqualificazione su quelli che sono i progetti strategici penso al parco del Fenestrelle e un'attenzione particolare a quelle che sono le infrastrutture. Il tema della mobilità in particolare la stazione il recupero di borgoferrovia il recupero di manufatti che fanno parte dell'accordo di programma abbiamo fatto con Ferrovie dello Stato. Nuova aggressione ad un poliziotto stavolta accade nel carcere di Salerno. Il SAP il sindacato di categoria va all'attacco e dice al direttore chi non è capace di gestire si deve fare da parte. Detenuti napoletani contro reclusi salernitani rissa sfiorata e un agente costretto a fare ricorso alle cure mediche ma la violenza non è solo tra i carcerati perché spesso nel mirino finiscono gli stessi agenti della polizia penitenziaria. A Salerno la situazione è diventata insostenibile come denuncia il SAP e Campania. Il segretario regionale Emilio Fattorello al canale 696 elenca le criticità della penitenziaria e mette nel mirino la direzione di Forni. E' vero che abbiamo gli organici ridotti è vero che i fondi sono stati tagliati ma ormai siamo arrivati proprio all'osso noi abbiamo carenze di strutture idonee per garantire la sicurezza abbiamo una struttura che comunque è vecchia bisogna di interventi e i detenuti ultimamente stanno prendendo non dico il sovravvento ma si pongono in maniera violenta sia tra di loro sia col personale di servizio abbiamo avuto in poco giro di tempo due evasioni che sono proprio indice della mancata della poca garantia di sicurezza che noi viviamo all'interno dell'istituto vorremmo un'organizzazione del lavoro anche eppure con minime risorse ma un'organizzazione del lavoro più moderna più lineare più trasparente perciò ci rivolgiamo ai vertici che dirigono la struttura per sollecitare un cambiamento se poi questo non avviene facessero un passo di lato e cedano la direzione dell'istituto d'altro cultura paesaggio e ciro il baby dinosauro è questo il patrimonio da valorizzare lo ha detto Tozzi il noto geologo che ospiti a Benevento ha raccontato è questo il vostro petrolio promuovere il patrimonio culturale e paesaggistico è questo il senso dell'incontro promosso a Benevento ed organizzato in collaborazione tra comune università sopraintendenza e curato dalle docenti Rossella del Prete d'Ornella More incontro a cui ha partecipato anche Mario Tozzi geologo divulgatore scientifico e saggista italiano molto noto anche come autore personaggio televisivo Ciro è un caso raro però sanno le persone di che cosa si tratta che è un dinosauro probabilmente di una specie nana che era un carnivoro che forse aveva appena mangiato come è morto quello che ci racconta della sua storia lontana perché è così eccezionale il ritrovamento per via dei tessuti molli impressi nella roccia sono cose che non vengono tanto risapute quindi andrebbero divulgate bene poi andrebbe valorizzato il posto in cui viene fruito La sinergia con l'amministrazione comunale è la lotta al vandalismo ed il rilancio del patrimonio al centro dell'intervento del soprintendente Salvatore Buonomo La soprintendenza ha tentato in tutti i modi con la passione con le potenzialità messe in campo di rilanciarlo anche a livello internazionale abbiamo diciamo promosso questo partenariato questa nostra presenza al Ghetti Museum con una mostra sul Nilo che sta riscuotendo molto successo All'inizio di quest'anno finalmente si è istituito l'ente geopareontologico di Pietrarolo ricordiamo che l'ente ha un carattere scientifico cioè l'ente che è un ente statale dovrà iniziare un'attività scientifica in quell'area quindi un'attività di ricerca di scavi perché Ciro appunto fu trovato per caso ma non è l'unico reperto presente in quell'area Coniugare l'ambiente con il rispetto dell'umanità in fuga presentato a Salerno il docufilm che racconta gli sforzi dei caschi blu del mare nel soccorso ai migranti nel Mediterraneo Il grande progetto per il litorale che va da Salerno verso sud non convince ambientalisti partiti e comitati dopo l'ok a finanziamento concesso dalla regione alla provincia attivisti in azione per chiedere sostanziali modifiche al progetto che, dicono rischia di creare più danni di quanti ne possa evitare questa mattina conferenza stampa delle sigle che temono ricadute negative per l'abitato costiero e intravedono il rischio di forte erosione della spiaggia interessata dai lavori Noi a suo tempo ci siamo come dire opposti alle realizzazioni di un progetto che comprometteva secondo noi in modo molto forte l'area protetta i valori dell'habitat dell'area naturale protetta della riserva naturale Foce Selle Tanagro quindi parlo del tratto di Capaccio e di Eboli che non solo è riserva naturale ma è anche un sito di interesse comunitario Il problema dell'erosione che è un problema appunto nazionale cioè non interessa solo le nostre coste è un problema comunque voglio dire molto diffuso vada anche un po' mitigato intervenendo proprio sulle cause che determinano l'erosione quindi una maggiore cura dei fiumi quindi degli ambiti fluviali evitando di eliminare quel trasporto solido che poi arriva al mare quindi forma rigenera comunque la quantità di sabbia presente sulle nostre spiagge evitando così per fenomeno anche attività di ripascimento perché poi vediamo che questi interventi durano un po' di anni e poi naturalmente bisogna rifarli e con il servizio dedicato al progetto sul litorale Salerno si chiude qui il TG News di 696 TV grazie ad Orlando Matarazzo di regia buon proseguimento sulla nostra emittente grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti